ciao amici anche oggi sempre dalla galleria la vostra galleria preferita la galleria privata che entra nelle case di voi italiani per proporvi oltre che i quadri meravigliosi proporvi anche gli oggetti come questo tavolo in cristallo lo sto accarezzando perché ha delle vibrazioni proprio questo cristallo questo è un di anno questo mobile questo tavolo in cristallo qui siamo su un pezzo del 1970 guardate guardate che capolavoro guardate che gioiello direttamente sono venuto qui in galleria a filmarlo per voi scusate il riflesso perché il cristallo questo è il gambo vedete circa l'altezza di un tavolo classico un metro un metro e 10 un metro e 20 cristallo da due centimetri di spessore vedete qui non si scherza questo è un bellissimo tavolo vintage 70 non ricordo bene il marchio se è un venini adesso dovrei guardare sotto ma oggi mi manca il ragazzo che mi aiuta perché non c'è ha avuto un problema familiare comunque ragazzi questo tavolo in cristallo anni 70 centro tavolo vedete si può anche alzare è pesantissimo ma vedete è solo appoggiato sulla base di legno con il camoscio che lo tiene fermo fantastico tavolo in cristallo qui per gli intenditori che vogliono parlare con me direttamente per un'acquisizione per la loro casa per il loro locale non c'è problema mi possono chiamare al 327 84 90 55 5 bene io nel frattempo vi saluto chi vuole parlare con me sono schiavo schiavo galleria d'arte galleri schiavo trovate anche la pagina galleri schiavo in internet arte quadri sculture oggettistica abbigliamento di di firma sculture anche di oggettistica anni 70 senza che parliamo di picasso chagall mattis però parliamo anche dei mobili di bugatti mobili belli le lampade romane i quadri futuristici di schifano di balla abbiamo qui anche addirittura vedete la teglia tagliata la tela tagliata di fontana oggi vi propongo un tavolo che solo pochi possono capire ok ciao da schiavo galleri un salutone buona giornata ciao